Bene, allora colleghi e colleghe di Roma, benvenuti a questo incontro che in 40 minuti cercherò di affrontare sul software libero didattica. Io intanto ringrazio i colleghi del CTS di Roma di avermi invitato a questo ragionamento che farò con voi, perché il mio ragionamento è un ragionamento un po' divergente rispetto a quello che si sente in giro. Io sono un insegnante come voi, non sono un accademico, stamattina ero in classe, però da un bel po' di anni mi occupo anche per l'università e per il Centro Nazionale delle Ricerche di software libero e didattica. Quindi ho prodotto un sacco di materiali, materiali anche da scaricare, software, li ho selezionati, cambiati, ho fatto un po' di cose e li ho messi a disposizione. Quindi questo incontro non sarà un solo incontro di presentazione, ma sarà anche un aprire la cassetta degli attrezzi e dire ragazzi possiamo usarli, provate a vedere se vi trovate meglio. Allora, l'obiettivo fondamentale di tutto il mio lavoro è stato cercare di trovare quali sono gli elementi per avere una marcia in più con le nuove tecnologie. Ovvero, finché non ho capito come potevo usare le nuove tecnologie come amiche, come strumenti compagni in questa mia azione, io, come dire, ho fatto fatica ad accettarle. E questa presentazione che adesso vado a farvi vedere, cercherà di illustrare quali sono i paletti e gli elementi che ho trovato perché possano aiutare me e anche gli altri, cioè per uscire dall'imbroglio di essere intossicato dagli acquisti pur di fare qualcosa e avere in mano gli strumenti del mio mestiere, cioè essere io che faccio a scuola, non gli altri che mi obbligano a comprare, a fare, cambiare versione, come con i libri, quando ti cambiavano gli esercizi di tre pagine, buttavi via tutto il libro. Finché non ho trovato il software libero. E adesso vedremo di capire quali sono gli elementi. Per cui, il mio ragionamento, prima che tecnologico e didattico, è, diciamo, filosofico. Nel senso che, io devo partire da qua. Ok? Qua siamo, credo, d'accordo tutti perché è il nostro datore di lavoro. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ogni ordine economico e sociale. Ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione. E qua casca il pero, perché se io compro un software che posso dare solo alla lavagna e non posso dare ai ragazzi, vuol dire che non posso condividere con i ragazzi un lavoro che loro possano prendere in mano e manipolare. Se io faccio una presentazione con un software che costa 200 euro, vuol dire che c'è chi se lo compra e chi non se lo compra. Se io faccio un foglio di testo di una certa versione che dopo due anni non mi funziona più, vuol dire che devo buttare via sia il foglio che il documento. Vuol dire che se io gli ostacoli di natura economica e sociale, che ci sono già di suo, ce li aggiungo, era meglio la carta e la penna, perché un pezzo di carta e una matita costano molto meno che un computer e un software. E quindi qua ci sono già tutti i paletti. Come intendo io la scuola? E come dovrebbe essere, visto che l'Italia ha quell'articolo 3 lì? Questo è il riferimento che io credo e spero, insomma in qualche modo, umilmente di avvicinarmi ad affrontare anche in questa conversazione con voi. La scuola è un tavolo di lavoro, di creazione, di sapere manipolato. Dove c'è il bambino, dove c'è il grande, c'è il medio. E' chiaro che questa è una scuola faticosa, una scuola estrema, è la scuola di Barbiano, è la scuola di Don Milani. Però noi comunque non siamo lontani nel fatti, perché abbiamo in classe il DSA, il BEST, l'indicappato, l'estracomunitario, il figlio del Galeotto. L'abbiamo tutti. E' una scuola a base sociale allargata. Non è a base di età allargata, ma a base sociale sì. Cioè vuol dire che noi quando siamo in classe siamo praticamente, ognuno di noi, chiamati ad essere dei piccoli Don Milani. Perché la fatica di parlare a tutte queste menti qua è ben diversa da una scuola a base sociale ristretta. Dove uno paga per arrivarci, dove c'è una selezione in ingresso dato dall'economia. E' ben diversa, è vero? Noi siamo in trincea. Io la scuola la vedo così. Ecco perché Sodilinux ha come sfondo questo tavolo. E tutti gli applicativi che ha questo sistema operativo sono applicativi di condivisione. Dove non c'è niente di fatto, non c'è niente di clic, non ci sono gli esercizi della Ericsson per capirsi o della Ivana Sacchi. Che amo tantissimo, con la quale collaboro. Però è una prospettiva diversa, è una prospettiva di didattica costruita con i ragazzi. E questo mi serve il software libero. E vediamo come sono questi ragazzi. Allora i ragazzi di oggi sono, qualcuno dice che sono peggio di prima, secondo me sono diversi, non peggio di prima. Ogni stazione della storia ha avuto dei ragazzi fatti, come dite con i genitori, peggio di prima. Però questi sono diversi davvero, perché non gli interessa leggere e scrivere, poco. Si stufano in fretta. Però sono creativi, esplorativi, non si fermano di fronte a un ostacolo e hanno un atteggiamento prova e riprova. Confidano nella rete, non confidano nei libri e pensano che gli insegnanti non sono mica loro quelli che hanno la conoscenza e il sapere. Ma chi ha la conoscenza e il sapere è Google, Grogle, o Google, o Wikipedia. E chi sono gli insegnanti allora? E questo è il bello. Cioè, bisogna anche capire il campo d'azione dove andiamo a lavorare. Qua dentro ci sono tutti, vero? BESS, autismo, sordità, borderline, psicofisici e anche gli intelligenti. Sono così, eh. Se voi guardate un down per strada con un tablet, si comporta nella stessa maniera di un altro. Se voi guardate fine pizza, le famiglie che hanno un bambino in carrozzina che non sta mica bene, che muove un dito, gli danno un tablet che giochi. Vero o falso? Allora, qua dobbiamo rompere le consuetudini. Dobbiamo fare qualcosa di innovativo, perché abbiamo a disposizione tanti strumenti, ma quali prendo in mano? Faccio la punta al computer o mi immagino qualcosa, mi immagino un insegnante diverso. Allora adesso vedrete in alcune diapositive pidocchio. Perché le tecnologie, secondo me, sono bugiarde, se le usiamo in un certo modo. Cioè sono una truffa. Ecco, ho appena finito un convegno a Brescia nel quale ho parlato dell'imbroglio delle tecnologie. Questa è una di quelle diapositive che porto dal convegno di Brescia. Questi bambini qua, secondo me, sono imbrogliati dalla tecnologia. O perlomeno, se a scuola fanno solo questo, è meglio che stiano a casa, almeno giocavano, parlavano fra di loro, correvano nei prati, non si rovinavano la vista, e magari muovevano le braccia più che le dita, e magari anche le gambe, le anche, la schiena e quant'altro. Cioè tecnologia che punta a far lavorare i bambini da soli, che sviluppa la competizione, che li mette in un isolamento totale, praticamente gli avvia la frustrazione in agguato, perché prima o dopo questi qui cascano, non vivono la relazione. L'uomo è un animale di branco, è un animale di gruppo, è un animale che lievita la propria conoscenza nell'incontro con gli altrimenti. Con il computer, sebbene un programma sia anche ben fatto, non è la stessa cosa. Ecco, questo tipo di tecnologia a me non piace. Di questi software comperati, già predisposti, a me non piace. A me piace un insegnante che ha passione del suo mestiere, ci mette del suo, inventa la didattica con i ragazzini. L'imbroglio delle tecnologie. L'imbroglio delle tecnologie è grosso, e tutti i giorni, colleghi, io ho fatto scuola fino alle 1, e poi ho fatto un corso ai ragazzi, è lì. Computer con bambini lasciati davanti al programma organizzato, che si compra in cd, che dentro c'è tutto bello a posto. Lavagne interattive usate come proiettori. Uno arriva con la presentazione scaricata da internet, e in 5 minuti dice quello che in un libro dice in un capitolo. Nessuna capacità di elaborazione da parte dei ragazzi, se non un'esposizione. Era meglio il libro, almeno si andava passo passo, si sottolineava ogni tanto. Usare la rete per copia e colla. Creare in classe documenti illegibili a tutti. Perché queste estensioni qua, che sono di Microsoft 2016, non le vedete se avete Windows 2003, non li vedete bene se avete Windows 2007, non parliamo se avete Writer. Quindi questi qui, proprietari, rispondono a una, obbediscono a un'istanza aziendale, di essere obsoleti da lì un poco, perché devono essere sostituiti da altri. E quindi non posso creare didattica e fare una presentazione con i compagni con questi software qua. Arrivare in classe con i cd per le esercitazioni. Ecco, io questa didattica la odio, dipende come la organizzo la didattica. Abbiamo un'opportunità oggi incredibile. Perché noi oggi, in classe, con i ragazzi, possiamo fare diventare ogni ragazzo protagonista di quello che impara. che, tra l'altro, è uno degli assunti della scuola europea, uno degli otto punti per portare i ragazzi dalla prestazione alle competenze. Oggi possiamo documentare quello che facciamo. Open Saint-Corin, un programma per le lime sviluppato dal ministro francese, dato alle scuole per evitare quello che succede in Italia, che uno o smonta la lime e la porta in un'altra classe e si mette con il martello pneumatico a bucare il muro, oppure lascia quello che ha fatto sull'olim, sull'olim di quella classe lì. In Italia succede questo, milioni di euro attaccati al muro. E non si possono spostare. Noi ci ridiamo su, però è così. E siamo talmente intossicati da questo prassi che ci pare normale. E non è normale spendere soldi e lasciarli là. Abbiamo una possibilità di farcire le cose che facciamo con più linguaggi. E questo crea inclusione, vero? Perché se io uso l'audio con un sordo, no, ma con un cieco sì. Se io uso una presentazione con un DSA, ci metto dentro un video, quello impara non per le parole, ma per l'insieme di informazioni che arrivano. Se io uso una mappa concettuale, se io simulo la realtà, se faccio diventare i ragazzini editori, a proposito di ragazzini editori, sarò a Roma dopo domani. Perché con i nostri ragazzi, un DSA e due BES, abbiamo vinto questo concorso racconta il tuo sport e saremo a Roma per la premiazione. Ecco, abbiamo fatto una mappa concettuale dove tutta la classe ha creato, questo è il sito della mia classe, che fa parte del mio sito, ha creato delle filastroche, le ha create prima a carta e poi le ha digitate con un software libero, LibreOffice. E LibreOffice ha permesso di cominciare a scuola, continuare a casa, creare dei gruppi fra le case dove i ragazzini si sono trovati a fare filastroche, e ritornare a scuola, lo software era uguale per tutti e si è potuto fare. Se avessimo usato Windows Office 2016 non si poteva. Quindi, e poi c'è il web, quindi tutte queste opportunità io le perdo se non uso software libero. Il software mi dà tutte queste disponibilità per l'endicap. Allora, siccome io, mi hanno detto, i colleghi parlerò ai coordinatori del sostegno e che faranno delle scelte economiche di spesa e che dovranno indirizzare la didattica, indirizzate la didattica verso i formati aperti e liberi condivisi. Software come AraWord per la comunicazione aumentata, che è questo qui, è strepitoso. Io posso scrivere per immagini e insegnare ai bambini per parole, per immagini le cose. Adesso vi sposto la condivisione per farvi vedere un esempio di didattica accessibile. Vedete questa slide? Questa slide è fatta per una classe prima B, le forze endogene e le forze esogene. Per spiegare, qua in alto c'è la terra continua a cambiare, le forze che cambiano la terra sono due, endogene e esogene. Immagini e testo. Questo qui è fatto per un autistico, a parte i DSA e così, che ormai ne abbiamo a Chilli qua a Verona, e un singalese e un thailandese. Bene, quelli hanno capito che cosa sono le forze endogene, perché San Corè che è questo programma per le LIM che vedete, permette di mettere le parole qua, spostarle con il mouse, mettere le immagini qua, spostarle con il mouse, e poi io verifico se il bambino ha capito perché mette parole e immagini al suo posto. Vedete che lo sto spostando. E questo programma non è sulla LIM, è sui computer, portatili vecchi che ci hanno regalato, che girano fra i banchi. Allora il bambino magari non sa parlare, ma sa riconoscere. Adesso lo riporto al loro posto perché sennò questo qui è proprio il file che stiamo usando in classe. Quindi questa lezione è accessibile e l'ho fatta con San Corè, perché software libero non avremmo potuto farla con un software proprietario, restava sulla LIM. Capite la differenza? E' una cosa non da poco, è importantissima questa cosa qui, poter avere software libero in classe. Il software libero è gratuito, lo posso distribuire, non ha scopo di profitto, è longevo, è interoperabile, funziona con tutti i sistemi operativi, operativi, perché ha, come si dice, la sua mission è funzionare sulle macchine che trova. E sto parlando di LibreOffice, sto parlando di Impress, sto parlando di San Corè per le LIM, sto parlando di Firefox, di Audacity, ha la Word per copiare e scrivere per immagini. Il software proprietario ha un piano aziendale di due o tre anni, poi dovete buttarlo via, come i libri che venivano cambiati gli esercizi a fine pagina, è uguale, per fare questa diapositiva qua non ho trovato neanche libere le immagini di questi software, perché online sono tutte coperte dai diritti d'autore. Allora, vado avanti veloce perché devo chiudere entro le 6.40, qua ci vuole una scossa colleghi, perché creare inclusione è necessario agire sulla didattica, e agire sulla intraprendenza didattica, professionale, e anche nel merito di quello che si fa, perché questa era come prima, questa è una classe magari aumentata perché c'è la LIM, ma è tanta come prima, vero? Gli faccio fare la LIM quello che faceva l'Ardesia. Se volete attaccarvi la sedia e ridere, vengo da un liceo di Verona, dove il tecnico informatico è arrabbiatissimo, perché ci sono colleghi che arrivano, siccome il preside per aumentare l'innovazione, ha tirato via le lavagne di Ardesia e ha messo solo LIM, sapete cosa è successo? Che ci sono gli insegnanti che vanno a scuola con i penarelli Vileda nascosti nella borsetta, scrivono sulla LIM e poi cancellano con la spugna bagnata e i tovagliolini bagnati, e hanno rovinato le LIM. Questa è l'innovazione, cioè la roba, capite? E' una cosa vergognosa, secondo me, perché vuol dire non capire che oggi possiamo agire su questi linguaggi restando nel mezzo, mettendo in circolazione le competenze, noi dovremmo diventare cooperatori, coordinatori, e sviluppare un pensiero deduttivo, più che creare degli esecutori. Un piano inclusivo di classe, qua è un discorso che si apre e non si finisce più, però per far didattica inclusiva bisogna partire dall'inizio, io sono dell'idea che bisogna costruire a settembre un piano inclusivo di classe, non si può essere appiccicatici con delle cose, si possono fare delle incursioni, però bisogna prendere degli accordi su come si lavora in gruppo, in squadra, perché sennò ognuno di noi è sconfessato da quello che viene l'ora dopo, perché magari è più democratico o perché fa fare scuola in modo diverso. Qua dobbiamo metterci d'accordo su cosa si fa. Le risorse per fare questo. Software libero c'è, sì, Sode Linux, software didattico per Linux, è un sistema operativo sviluppato al CNR, adesso vi faccio vedere il sito, eccolo qua, si scarica, si installa su tutte le macchine Windows anche di 10 anni, ha un parco software incredibile, software libero, quello che dicevo prima, e così le macchine, questo è il sito, cliccate qua, vedete la presentazione, Sode Linux, che è il sistema operativo che io sto usando in questo momento, che uso ormai da una vita, perché faccio parte del gruppo che lo sviluppa, e prima di tutto lo testo io, questo è il mio monitor, questi sono i software, accessori, accessibilità, avete il lettore in 6 lingue gratuite come Carlo Mobile, conoscete Carlo Mobile? Il programma che legge? Eccolo qua, libero, sviluppato in Francia, ripreso da noi, avete un sacco di software per la didattica, diviso per fascia scolare, infanzia, primaria, secondaria, forse qualcuno di voi che insegna matematica conosce GeoGebra, qua conoscerete FreeMind, conoscerete ColorPaint, è software libero, conoscerete TuxPaint, qualcuno conosce San Corè, qualcuno per ufficio conosce il parco di LibreOffice, sono software liberi, quelli buoni, quelli che permettono la circolazione, e CmapTools, un programma per fare le mappe concettuali, AraWord, per poter scrivere, scrivere per immagini, e quindi riuscire ad includere per immagini anche chi non capisce e che deve tenere a deposito troppe informazioni. Allora, AraWord è un programma che per sviluppare la sintesi vocale abbiamo speso 1500 euro, pensate, con 1500 euro che è questa funzione qua, siamo riusciti a dare a tutta l'Italia un software che scrive per immagini e parla. Volete vedere? La casa di mia mamma è al mare. Lo capiscono tutti, il range di presa di questo software sulla comprensione è altissimo, cliccando qua parla, voi non sentite perché ce l'ho in cuffia. Posso cambiare le immagini, mettere l'immagine di mia mamma, posso scrivere anche in più lingue. Adesso posso capire. Adesso ho scritto male perché io sono disgrafico. Ecco, posso, se non c'è capire allora mettete sentire, no, potete dire comprendere. cercate la parola che non c'è comprendere, ecco, comprendere, potete cambiare le parole se non vi garbano perché ne aggiungete. Adesso ho aggiunto comprendere, salva, comprendere, per immagini ho scritto per posso comprendere le tue parole, parola. Se le parole non ce ne avete abbastanza le potete introdurre. Insomma, questo è un programma fantastico, gratuito e noi di Sodi Linux non l'abbiamo mica sviluppato solo per Windows, l'abbiamo messo a disposizione per tutti i sistemi operativi perché l'obiettivo eccolo, questo qui è il programma qua è spiegato sul sito, l'obiettivo questo è un progetto europeo finanziato in Spagna che abbiamo ripreso e rimesso in vita perché l'obiettivo è dare software libero alle scuole non farli passare a Windows, vedete, si scarica per Linux, per Windows, per Mac e per Windows siccome Microsoft ha creato le complicazioni si scarica per 32 e 64 bit perché ci ha fatto morire per riuscire a superare i problemi di licenza per entrare dentro Microsoft e fargli accettare il software libero perché se non paghi le royalties a Microsoft non puoi che sviluppare per Microsoft. Software libero qualcuno dice che fa schifo perché non c'è nessuna garanzia bene, adesso chiudo la bocca a tutti perché il software libero l'ha scelto il ministero della difesa le forze armate sono passate al software libero per le stesse identiche ragioni di inclusione che sto dicendo adesso perché se un documento parte deve arrivare ad essere letto e perché solo di licenze di LibreOffice risparmio 30 milioni di euro allora io sta cosa l'ho scritta in lista e l'ho mandata anche a Faraone perché sapete quanti soldi si potrebbero risparmiare nell'handicap e dargli in ausili insegnanti di sostegno assistenti personali se non pagassimo le licenze e usassimo software libero e gli insegnanti gli insegnassimo a usarlo con dei corsi di formazione che se lo meritino tantissimi bene per Linux e per Windows o scaricate su di Linux e ve lo installate potete installarlo a fianco di Windows al posto di Windows o in macchina virtuale anche su Mac se invece stesso identico software libero volete installarlo su una macchina Windows scaricate dal sito del CNR i miei lavori sono sul sito del CNR il kit PC di SA che è una raccolta di software che si trova ho avuto l'onore di essere citato dall'Indire anche sul sito dell'Indire e avete gli stessi identici software ha avuto un successo strepitoso questa cosa questa idea del kit PC perché ogni software che io ho messo dentro per scrivere per fare presentazioni per fare le mappe per fare i poster per fare le audio lezioni per fare le video lezioni didattiche è spiegato con un piccolo video dentro la cartella c'è sia il software da scaricare una piccola guida in pdf e una video guida mi arrivano mail da Reggio Calabria di gente sulle montagne che si è assaricata al kit PC di SA e che grazie alla guida ha potuto imparare come si fanno a fare le audio lezioni che per il DSA sono strepitose le audio lezioni la cosa importante anche è che la diciottesima cartella di questo lavoro torno indietro che è questa c'è scritto copiami dentro una chiavetta usb voi prendete questa cartella vi comprate una chiavetta con 4 euro mettete dentro la chiavetta quella cartella lì e avete questo parco software libero portabile vuol dire che voi dalla chiavetta cliccando sul file esecutivo che in genere è quello colorato parte il software e non dovete neanche installarlo parlo per Windows qua c'è una provocazione chiusa software libero sono proprio gli scemi ecco chiusa software libero il dipartimento degli stati uniti il ministero della difesa il dipartimento le università tedesche il CERN il grande acceleratore è software libero chi ha in tasca uno smartphone con android ha in tasca software libero ha in tasca linux araward il programma che dicevo prima ha avuto un successo strepitoso in tutta Europa perché usa le immagini libere immagini che sono su android che sono sulle scale antincendio delle stazioni le immagini essendo libere si sono disseminate la provincia autonoma di Trento il 3 febbraio 2016 dice usate software libero nelle scuole del Trentino e vi assicura che i trentini non sono stupidi hanno un sacco di provvidenze ma non sono stupidi le spendono bene le scuole trentine sono dipinte hanno i rubinetti cromati c'è pulito i vetri doppi hanno un sacco di soldi ma li usano bene e dicono che il software libero è possibile distribuire gratuitamente utilizzato a scuola e dalle famiglie senza costi vi ricordate l'articolo 3 la condivisione favorisce la condivisione didattica aperta lo dice il Trentino speriamo lo dica anche l'Italia appena ho mandato una mail alle nostre liste arrabbiatissimo dopo che vedo che l'esercito passa al software libero vabbè cosa posso fare? intanto colleghi uno scatto di orgoglio cioè non facciamo il supporto di una didattica vecchia passita da buttare via perché spesso gli insegnanti di sostegno arrivano nei consigli di classe quasi come col capotto chiuso sommessi aspettando che gli dicano cosa fai vai fuori di classe cosa fai ti tieni in ragazza cioè noi dobbiamo risvegliare la didattica con delle proposte inclusive ma proposte che significano fare scuola non prendere quello che c'è già fatto speciale nella scuola primaria dell'obbligo se alle scuole superiori posso capire che ci siano dei momenti separati questo non vuol dire solo lavorare in classe e basta vuol dire anche lavorare fuori ma con un ritorno della classe con un'apertura a un progetto più ampio di classe perché se no facciamo il paperoga della didattica resteremo sempre paperoga perché io sono insegnante di sostegno nel 1980 siamo nel 2016 e lo schema è ancora quello e convegni sulla valutazione dell'inclusione convegni leggi supporti ne ho viste un sacco soldi spesi a dire che restiamo quello di cioè che siamo ancora come prima qua bisogna gli diamo una scossa alla didattica questi sono i software passarella la scossa alla didattica queste guardateveli perché in realtà spiego i software di Sodi Linux che permettono queste azioni didattiche però non ho tempo di raccontarveli ma ho voluto lasciare lo stesso questa presentazione a voi perché possiate chi è interessato affondare le mani e prendere le risorse che abbiamo messo a disposizione della scuola questi sono disegni fatti di un bambino su questo tavolo interattivo si chiama Filippo non faceva niente alla scuola primaria grazie al tavolo interattivo e software libero ha cominciato a disegnare è un bambino tetraplegico ha portato a casa disegni propedeutici alla litoscrittura sopra, sotto, dentro, fuori e vado veloce perché devo parlare di cosa possiamo fare we can do cosa possiamo fare perché sennò ci piangiamo ad osso abbiamo un sacco di software libero a disposizione per tutti i mondi Linux, Windows, Mac cosa facciamo? bene diamo una scossa alla didattica perché possiamo entrare con delle idee non fare la punta al computer fare cose di scuola costruirla la scuola qui ci sono sette idee sette azioni sulle quali mettere in piedi la didattica e nelle diapositive successive che non ho tempo di raccontare ci sono le ipotesi ma non ipotesi giocate all'università in uno studio di ricerca come tesi di laurea vissute in classe con Gianni e Pinotto cioè con ragazzi con storie raccolte nella mia vita scolastica ci sono anche dei video che raccontano questo ci sono anche dei video all'interno di diapositive che parlano i ragazzi di 30 anni che ormai i miei ragazzi sono grandi che raccontano di quando erano a scuola come è andata la cosa perché oggi se noi mettiamo tutti a lavorare le mappe concettuali possiamo trovare il posto per ciascuno se noi registriamo le lezioni se noi creiamo le video lezioni se San Corè come avete visto prima la LIM non resta la LIM ma la presentano i ragazzi se facciamo presentazioni con loro questa è la presentazione dell'altro giorno con i miei ragazzi c'è l'autistico che ha raccontato le navi di Venezia e ha raccontato qualcosa anche lui guidato dalle immagini però era in classe con i suoi compagni non era da solo a sapere tutto sulle navi meglio poco però ha giocato in realtà ecco questi sono diciamo degli stimoli che voglio lasciare e nelle diapositive successive ci sono degli esempi un discorso sulle mappe quasi sempre queste diapositive hanno dei collegamenti vedete se cliccate qua vedete questa mappa che è diventata una presentazione raccontata da ragazzi che stavano preparando la terza media qui trovate la guida e anche per poterla scaricare una guida per come si costruiscono le mappe per le primarie questa è la mappa generale questa l'ho fatta oggi con un gruppo di DSA ai quali insegno a usare le tecnologie partiamo da lì questa è una verifica questa è una tesina fatta da una ragazzina sorda che ha portato Mario Soldati all'esame di terza media questa è una lezione su Luigi XIV che è diventata video lezione dove un dislessico racconta Luigi XIV questa video lezione ce l'ho su Youtube nel mio canale è stata vista da 5.000 persone 4-5.000 persone una mamma mi ha scritto una mail di ringraziamento finalmente mio figlio ha capito che cosa è l'assolutismo guardando la video lezione vedete aggirando l'ostacolo aggirando l'ostacolo si insegna a tutti bisogna trovare gli schemi vedete questi sono tutti esempi di didattica che possono aiutarvi nel presentare nel lavorare sulle buone prassi prima di finire questo è interessante chi lo vuole scaricare poi passo per raccontare del mio sito è un piccolo testo che ho fatto per la provincia autonoma di Trento in un corso che ho fatto lì dove si parlava di strumenti dispensativi e compensativi bene allora io mi sono arrabbiato perché sono stufo di portare in giro i software per i DSA ho detto proviamo a vedere cosa si può fare per evitare che diventino DSA perché io mi sono fatto questa convinzione che noi noi siccome corriamo tantissimo l'infanzia a fare cose che dovrebbe fare la primaria arrivano che sanno già lesere e scrivere la primaria fa già statistica alle frazioni quasi il calcolo sesagesimale perché devono dare le medie alle medie fanno gli studi di funzione le disequazioni e i sistemi di primo grado perché devono dare le superiori alla fine creiamo i DSA ancora quando sono spermatozoi cioè ci siamo perché secondo me ognuno deve fare il suo mestiere l'infanzia fa l'infanzia la primaria fa la primaria e le superiori fa le superiori in questo lavoro qua io dico facciamo ognuno il nostro mestiere e propongo tutta una serie di attività anche digitali che possono diventare a carta per aiutare i bambini a sviluppare le competenze preliminari alla lettoscrittura credo che questo limiterebbe enormemente la ricerca della certificazione perché i ragazzini arrivano alla lettoscrittura preparati dalle competenze di base che supportano quelle metacognitive ecco questa è una convinzione che io ho queste sono le diapositive sempre sulle attività digitali che potete fare con i ragazzi che potete stimolare nei gruppi di lavoro nei gruppi di fare le video lezioni con un pezzo di carta sotto la telecamera è una cosa semplicissima che io faccio fare ai miei ragazzi per mettere online se voi andate sul mio sito le vedete le video lezioni fatte queste sono la preparazione di un esame insomma io ho inteso questo mio lavoro non tanto solo un'esposizione ma come un'offerta di proposte idee per domani mattina dire cosa faccio quando faccio una riunione con i miei insegnanti di sostegno nuovi che idee si portano dentro il consiglio di classe come potrei fare storia questo è un ragazzino dislessico che fa una video lezione sul minimo comune multiplo è online anche questa l'avranno guardata due o tre mila persone il bello di questa video lezione è che spiega sbagliando come si fanno i minimo comune multiplo però lo fa giusto e lo fa con la calcolatrice come c'è nel video e questo è tipico dei dislessici non te la scrivono giusta non te la spiegano giusta ma la fanno giusta la scuola che valuta il testo scritto gli direbbe 5 e invece secondo me questo qui era da 8 bene però vorrei dirvi anche altre informazioni allora vi ho detto del sito sul mio sito trovate no questo è quello un sacco di si vede l'indirizzo eccolo lì eccolo qui home intanto potete già scaricarvi la presentazione a questo link quindi chi vuole clicca il link e si scarica la presentazione che ho appena che sto in qualche modo esponendo qui scarica la guida ai software di SodeLinux SodeLinux anche un po' per facilitare la comprensione di che cosa è perché spiegare un sistema operativo con i suoi software è molto complicato in 40 minuti praticamente SodeLinux al suo interno ha una raccolta di applicativi la gran parte sono applicativi che van bene sia per Windows che per Mac che per Linux e li ho divisi per tipologia di approccio per l'autismo c'è Raward per la sordità c'è LibreOffice Writer c'è la solo Linux questo non c'è la Windows tu scrivi e senti scrivi senti e registri c'è Audacity per fare le audio lezioni cosa posso fare con i psicofrisici con i DSBus A e BES quali software ho per fare scuola a distanza come costruire un tavolo interattivo insomma ho cercato di catalogare in maniera un po' usabile i software il mio sito vi permette di scaricare un sacco di materiali qui ci sono anche webinar se volete andare sui webinar vedete come si fanno le mappe come si usano i software per il DSA come si costruiscono tavoli interattivi low cost per ragazzi disabili come si utilizzano i software per il DSA insomma è una serie di risorse che metto a disposizione di chi le vuole utilizzare gratuitamente naturalmente sono tutti creative common quindi potete anche divulgare le mie presentazioni basta che dite che le ho fatte io adesso vorrei dire un'altra cosa a proposito del software libero noi sviluppiamo questo software libero gratuitamente fino adesso l'abbiamo sviluppato con dei fondi che ci ha dato il ministero e il ministero ha finanziato solo i Linux attraverso i centri territoriali di supporto che hanno aiutato lo sviluppo a CNR per tenere i repository e quant'altro quest'anno non abbiamo preso una lira siamo alle asse praticamente come si dice a Verona stiamo cercando supporti e stiamo tentando di mettere su una rete di CTS che lo supportino una rete di scuole quindi una rete di CTS siamo già a 20 però nell'immediato abbiamo bisogno di denaro per risolvere alcuni problemi che riguardano quel programma che vi ho fatto vedere prima Araward che noi vorremmo potesse avere più voci regolare la voce interrompere la voce Araward permette anche la stampa plastificata dei lemmi non solo l'uso al computer insomma abbiamo bisogno di soldi e se voi volete per ora la causa della donazione Italian Linux Society che voi dovreste vedere adesso ci ha messo a disposizione la sua organizzazione e alcuni e 3.000 euro praticamente un crowdfunding una raccolta di donazioni che ci permette di pagare gli sviluppatori questi soldi vanno al CNR per pagare gli sviluppatori chi vuole dà anche 5-10 euro e può donare qualcosa è una donazione molto snella non passa attraverso la burocrazia scolastica ecco guardate abbiamo preso già 480 euro in 10 giorni noi confidiamo di arrivare a 5-6.000 perché questo ci permetterebbe di sviluppare la versione 2016 e nella versione 2016 mettiamo dentro il controllo del computer attraverso il naso la punta del naso controlla il computer abbiamo intenzione di mettere dentro il nuovo LibreOffice e abbiamo intenzione di sviluppare la nuova versione che va su Windows 10 la 2016 in prototipo ce l'abbiamo già ma dobbiamo ancora testarla abbiamo bisogno di un po' di soldi il miurno ce li ha dati li dà alla Apple credo perché fanno dei progetti enormi noi ci basterebbe pochissimo perché per sviluppare la voce di Araward abbiamo speso 1500€ pensate pochissimo la voce di questo programma è costata 1500€ quindi noi confidiamo con altri 1500€ di riuscire a far sì che Araward possa non solo parlare ma anche interrompere il parlato questo programma voi non lo sentite ma io posso parlare io clicco qui e lui parla non lo vedete perché è fuori campo ecco qui ha la bottone parla però questa voce qua non posso regolarla né nella velocità né nell'interruzione legge tutta una stringa noi abbiamo bisogno di alcuni controlli in particolare con i bambini autistici per fare in modo che le stringhe siano separabili c'è bisogno di fare un po' di insomma di lavorarci su ah dimenticavo di dire che Araward questo programma mette a disposizione di chi lo usa 20.000 immagini cioè dentro Araward ha 20.000 immagini che voi potete usare tranquillamente anche per i lavori di testo con i bambini con il cattura immagine catturate parlare faccio vedere io con il programmino cattura immagini ho la possibilità se mi serve per esempio mi serve io catturo vedete doppio clic catturo solo l'immaginetta e la metto dentro Word e quindi posso farcire il testo di immagini e creare un testo più inclusivo di un testo che ha solo parole ecco questa preghiera di donare qualcosa anche 5 euro è una cosa importante proprio perché vogliamo per tutti quelli che hanno bisogno di questo programma portarlo alla fine dello sviluppo anche se la fine è difficile trovarla perché bisognerebbe arrivare almeno a 40.000 immagini e se lo merita è un programma veramente strepitosa adesso vedo che sono le 6.39 ecco qui dentro una diapositiva spiega come con un programma si può dettare al computer interessante anche questo nei casi più impegnativi abbiamo già una banca di libri fatti per immagini dal CTS di Ferrara la biblioteca la bottega del libro con Araworde c'è un progetto di buone pratiche di scuole che stanno producendo libri per immagini per bambini dislessici chi li produce ragazzini normali di scuola primaria che come lavoro didattico producono libri è un lavoro bellissimo con questo motto e se perdiamo l'oro la scuola non è più scuola è come un ospedale che cura i sani e respinge i malati vi ringrazio per l'attenzione ecco mi scuso perché ho sforato ma le cose che dovevo dire sono tantissime io adesso chiudo la registrazione ecco